Ciao ragazzi, in questo video vediamo come disattivare e successivamente riattivare la connessione internet con il prompt di Windows 11. Dopo aver lanciato il CMD con privilegi elevati, lanciate il seguente comando per vedere tutte le interfacce sul vostro computer. Individuate il nome della scheda di rete da disattivare. Ora lanciate questo comando. Nel campo ne immetteteci il nome della vostra connessione senza omettere le maiuscole. Una volta che avrete dato invio al comando sul prompt vedrete la vostra scheda di rete di sconnettersi. Successivamente potrete riattivarla sostituendo l'ultimo parametro come mostrato nel video. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale.